seconda domanda cosa ricordi del meraviglioso film palermo milano sull'andata raccontaci tutto del fantastico ruolo di saroli gresti è una bella esperienza lavorato con giancarlo giannini dopo aver lavorato con migliore placido due grandi maestri e c'era anche il giovane rau bova agli inizi della sua carriera però dai il personaggio più cazzuto era proprio sarò ricordi qualcosa in particolare di quel ruolo è piovuto sempre è stato a lucca praticamente abbiamo girato sotto l'acqua quasi sempre è stata una bellissima esperienza che non dimenticherò mai il ritorno l'ho fatto perché ero impegnato per altre cose come mai tu ci dovevi essere allora per me il film senza di francesco ha perso almeno il 70 80 per cento grazie a tutti grazie a tutti